Bortone e Cirino, in questi tempi di crisi economica, di disoccupazione, di cassa integrazione, di precariato, raccontare storie di ozio, di gente che sceglie di non lavorare, non può suonare come un insulto alla miseria? Allora, è evidente che di per sé il libro può sembrare una provocazione e in qualche modo qualcuno la potrebbe prendere come una provocazione. Dopodiché, noi siamo dei giornalisti e siamo delle persone che vogliono raccontare la realtà e quindi, a mio parere, la cosa più importante è avvicinarsi a tutti i mondi che ci circondano senza pregiudizi e con la voglia di capire qualcosa che è diverso rispetto a quelli che sono i nostri mondi o i mondi che vengono normalmente raccontati. Ci era sembrato che affrontare le storie di persone così anche diverse, anche personalmente, da me e da Mariano, che abbiamo sempre lavorato, potesse essere una sfida non soltanto per noi ma potesse essere anche una sfida per il lettore e quindi volevamo capirne di più, visto che sapevamo che esistono tante persone che decidono di non lavorare non per necessità ma per scelta. Mariano Cirino, la cosa che più colpisce leggendo questo libro è che in fondo c'è un comune denominatore che tiene insieme due opposti. C'è chi non lavora per troppa ricchezza ma anche chi non lavora per estrema povertà. Poi c'è chi non lavora per un conflitto spesso generazionale, abbiamo parlato con i genitori, cioè il rifiuto della figura del padre, il padre iper lavoratore produce spesso il contrario. E infine c'è un'altra cosa che incuriosisce, cioè c'è questo senso quasi filosofico di una sfida, sfida al senso comune e anche soddisfazione di andare controcorrente. Qual è secondo te l'elemento più forte, quello scatenante fra quelli che abbiamo raccontato? Guarda, secondo me appunto non sono storie estreme, sono storie in realtà molto normali, di persone normali che hanno manifestato nella loro vita sempre una grande insofferenza e una grande voglia di essere spiriti liberi. Ora, ci sono delle condizioni esistenziali che consentono a ciascuno di noi di essere pienamente liberi probabilmente anche quando si lavora, ma questo è molto raramente possibile. Tutte queste persone hanno capito che per riuscire a essere liberi dovevano recidere dei legami, recidere dei legami con delle dipendenze che avevano. Qualcuno l'ha capito subito e quindi non ha mai lavorato per tutta la vita, insomma abbiamo uno dei nostri capitoli che si intitola L'uomo che ha abolito l'inverno perché si spostava per i continenti, secondo cui era sempre il suo clima ideale, insomma. E altri invece ci sono arrivati dopo un lavoro psicologico e a volte anche economico per trovare il modo di farcela, insomma, che non sempre è scontato, a meno che non sei proprio ricchissimo, insomma. Quindi storie di scelte in cui non necessariamente uno deve essere ricco per scegliere di non lavorare. Storie di scelte e storie di conflitti anche perché è una propria conquista che queste persone... A Rossella Boloso, tu porro.